Si dice che Re Carlo abbia preso una linea più dura contro il principe Ferri e il principe Andrew, infrangendo ogni speranza che i Sussex tornassero all'ovile reale. Il principe Ferri e il principe Andrew non hanno nessuna strada per tornare alla famiglia reale, poiché Re Carlo sa che il Regno Unito non ha appetito per il loro ritorno, ha affermato un commentatore reale. I commenti aspri arrivano quando un nuovo sondaggio ha rivelato che più della metà dei britannici vuole che Ferri venga rimosso dalla linea di successione. In termini di vita pubblica, il principe Andrew e il principe Ferri, si trovano in una situazione simile in quanto non c'è ritorno per loro nella famiglia reale, ha detto a Sky News Australia l'emittente Esther Krakue. La signora Krakue ha affermato che la partecipazione di Ferri o l'incoronazione del re a maggio era solo un cenno del capo al fatto che Charles voleva che suo figlio partecipasse all'evento più importante della sua vita. Ma niente di più. Il re comprende che il pubblico britannico non sopporterebbe il ritorno di suo fratello o suo figlio alla vita pubblica, ha aggiunto Krakue. King Charles, comprende chiaramente il pubblico, e sa che il pubblico non ha appetito per artisti del calibro dei Sussex, o del principe Andrew. Sarebbe completamente ridicolo se tornassero alla famiglia reale. La maggior parte delle persone vuole che i loro titoli vengano rimossi, ha detto. I commenti arrivano quando un nuovo sondaggio ha scoperto che più della metà dei britannici il 52% vuole che il principe Ferri venga rimosso dalla linea di successione reale. Il sondaggio è stato condotto da Delta Pol per il Mail on Sunday, e ha intervistato 1504 britannici.